Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Come ogni nuovo capitolo della nostra entusiasmante saga, il numero 214, che vedremo prossimamente, si apre con un crescendo di tensione e colpi di scena che vi terranno incollati alla trama. Il fulcro dell'azione è l'anteprima del capitolo in sé, che mette in luce le complesse relazioni tra i vari protagonisti della nostra avvincente storia. Jimena, una delle figure chiave della narrazione, è stata recentemente coinvolta in un evento drammatico, la simulazione della perdita del suo bambino. Questo avvenimento avrebbe dovuto naturalmente suscitare compassione e un forte supporto da parte della sua famiglia. Tuttavia, la decisione di Jimena di lasciare la stanza in cui si trovava molto prima del previsto ha iniziato a destare sospetti. Cruz, la perspicace suocera di Jimena, ha un'acutezza d'osservazione che la rende attenta a ogni dettaglio. Non può fare a meno di notare questo comportamento inusuale da parte di Jimena. Mentre molti potrebbero considerare questo gesto semplicemente come un atto di routine, per Cruz diventa un punto cruciale di sospetto. La sua mente inizia a tessere ragnatele di domande e supposizioni mentre si interroga sul motivo di questa improvvisa uscita di Jimena, innescando una serie di eventi che cambieranno il corso della nostra storia. Restate con noi per scoprire come si svilupperanno gli avvenimenti e quali segreti verranno alla luce nel capitolo 24 della nostra emozionante saga. Nella saga, Donna Mercedes, cercando di sostenere Jimena in un momento critico, decide di unire le forze con Jimena stessa per convincere il giovane e impulsivo Manuel sull'importanza di mantenere il dottor Abel alla promessa. Il loro obiettivo principale è garantire che Jimena riceva le cure mediche di cui ha disperatamente bisogno. Tuttavia, la situazione si complica quando la Marchesa Cruz, donna di carattere forte e risoluta, si oppone estrenuamente a questa decisione. La strategica Cruz, conscia dell'importanza di mantenere il controllo sulla promessa, non perde tempo e inizia a elaborare un piano per destituire Margarita dalla sua posizione e chiave nella tenuta. Per raggiungere il suo scopo, coinvolge il suo cognato Lorenzo e il suo notaio di fiducia. Cruz intende tendere una trappola astuta a Margarita, ma deve fare i conti con la perspicacia e l'intelligenza che Margarita è nota per possedere. Questa si trasforma in una vera sfida per Cruz, poiché Margarita dimostra di essere una degna avversaria. Nel frattempo, la dolce storia d'amore tra Catalina e Pelaio continua a fiorire, consolidando sia il loro rapporto personale che la loro joint venture nel business delle marmellate. Mentre affrontano le sfide della vita quotidiana e i dilemmi professionali, il loro amore cresce, diventando una parte importante della narrazione e aggiungendo una nota di dolcezza e speranza a questa complessa e avvincente storia. Restate sintonizzati per scoprire come si svilupperanno gli intrecci tra questi personaggi e quali ulteriori sorprese la saga ha in serbo per loro. Nonostante il successo in entrambi gli aspetti della sua vita, Catalina decide di rassicurare suo padre riguardo alla sua relazione con il conte Pelaio, affermando che rimane puramente platonica. Questo gesto è una testimonianza della profonda connessione tra padre e figlia, un legame basato sulla sincerità e sulla comprensione reciproca. Tuttavia, nonostante la loro relazione sia in realtà basata sull'amicizia, il contesto in cui si sviluppa inizia a causare tensioni e complessità. La cucina di La Promessa, un tempo un luogo di calore, fragranze invitanti e risate, si trasforma in un inaspettato palcoscenico per sottotrame e segreti che prendono vita tra pentole e padelle. Questo ambiente, che dovrebbe rappresentare la semplicità e l'onestà della vita quotidiana, diventa teatro di sottili manovre e complicazioni. Candela, una donna di onore e di principi, è una madre devota che, come molte madri, è disposta a tutto pur di proteggere la figlia di Carlos, Casilda. La giovane Casilda non ha sempre dimostrato il miglior comportamento, mettendo spesso Candela in situazioni imbarazzanti a causa della sua maleducazione. La pressione di mantenere una buona immagine all'interno della comunità di La Promessa è oppressante, e Candela si trova in un difficile dilemma. Sa che dire la verità sulla ragazza potrebbe danneggiarne la reputazione e la sua stessa integrità, ma mentire va contro ogni suo principio. Questo conflitto interiore aggiunge un nuovo strato di complessità e ambiguità ai personaggi e alla trama, rendendo la storia ancora più coinvolgente e avvincente. Quando Don Carlos, una figura rispettata all'interno della comunità, si rivolge a Candela chiedendo pareri su Casilda, la donna è colta dal panico. Senza pensarci troppo, improvvisa un ritratto lusindiero e completamente falso della ragazza, nella speranza che ciò possa proteggere la sua piccola famiglia da ulteriori pettegolezzi. Tuttavia, come spesso accade, la verità ha una strana abitudine di emergere, specialmente in un luogo come La Promessa, dove le pareti sembrano avere orecchie. La confidenza tra amiche è spesso un rifugio in tempi difficili, e Candela decide di rivolgersi alla sua fidata amica a Simona nella speranza di trovare comprensione e conforto. Mentre le due donne siedono insieme tra le luci soffuse della cucina e il profumo del cibo che cuoce, Candela finalmente rivela la sua menzogna a Simona. L'espressione sul volto di Simona cambia, ma non in modo critico o giudicante. Al contrario, Simona mostra empatia e comprensione, rivelando che lei stessa ha i suoi segreti e desideri nascosti. La tolleranza di Simona nei confronti del comportamento di Casilda nasconde un motivo più profondo, il suo amore non dichiarato per qualcuno nella casa. Questo rivelatore momento di sincerità tra le due amiche apre la porta a un nuovo livello di comprensione e connessione tra i personaggi. Mentre le dinamiche segrete e i desideri repressi vengono alla luce. Mentre la storia si sviluppa, ci si può aspettare che questi segreti e desideri giocano un ruolo sempre più importante nella trama, aggiungendo ulteriore profondità ai personaggi e alle loro relazioni. Le due donne, nonostante abbiano intrapreso strade diverse nella loro vita, si rendono conto di essere legate da un filo comune. L'amore profondo per i propri cari e la volontà incrollabile di proteggere a ogni costo la loro felicità e reputazione. Mentre le loro storie si intrecciano sempre di più nella complicata trama di relazioni all'interno di la promessa. La cucina con i suoi segreti e sussurri continua a essere una testimone silenziosa delle loro vite e delle loro vicissitudini. Nel frattempo, Pia è costretta ad affrontare una decisione straziante. Sentendosi incapace di fornire le cure e l'attenzione necessarie al suo bambino, decide di affidarlo a Beni, la devota moglie del mugnaio, sperando che possa offrire al piccolo una vita migliore. Questa decisione toccante mette in evidenza le sfide e le difficoltà che molte persone devono affrontare nel corso della loro vita, cercando sempre di fare ciò che ritengono sia meglio per i loro cari. Nel frattempo, il mistero che circonda la scomparsa di Ramona diventa sempre più intricato e avvolto nel mistero, con Gianna al centro di questa intricata ragnatela di eventi. La sua figura diventa un fulcro importante della trama, e i lettori rimangono in trepidante attesa di scoprire quale ruolo avrà nella risoluzione di questo enigma. La storia continua a svilupparsi, rivelando sempre nuovi dettagli e intrecci che mantengono alta la tensione e l'interesse del pubblico. La giovane e determinata Gianna si trova ad affrontare una serie di sfide e ostacoli mentre si impegna a scoprire la verità nascosta dietro la misteriosa scomparsa della sua amica, Ramona. Fin dall'inizio, Gianna ha avuto un presentimento inquietante riguardo alla figura della Marchesa Cruz. C'è qualcosa nel comportamento di Cruz, nel suo sguardo, che fa dubitare Gianna. Ogni sguardo scambiato e ogni parola pronunciata da Cruz sembrano rafforzare il sospetto di Gianna. Tuttavia, le accuse prive di prove rimangono semplici parole al vento. Con una determinazione incrollabile, Gianna decide di intraprendere una ricerca meticolosa, setacciando ogni angolo di la promessa, raccogliendo ogni frammento di ricordo e ascoltando ogni testimonianza disponibile. Il suo obiettivo è trovare elementi che possano collegare Cruz alla scomparsa di Ramona e finalmente portare alla luce la verità. Mentre Gianna si immerge sempre più nelle profondità di questo mistero, la tensione attorno a lei diventa palpabile. I sussurri si diffondono, le ombre sembrano muoversi in modo inquietante, e ogni piccolo dettaglio inizia a prendere significato. La sua determinazione e il suo coraggio la portano sempre più vicino a scoprire la verità, ma allo stesso tempo la mettono in una posizione di crescente pericolo. La trama si infittisce, e il mistero che circonda la scomparsa di Ramona diventa sempre più intrigante, tenendoci in ansia mentre seguiamo Gianna nel suo sforzo per risolvere questo enigma. Ma proprio quando sembra che Gianna stia per fare una svolta significativa nelle sue indagini, un altro colpo di scena prende forma. Manuel, una figura apparentemente periferica rispetto al cuore del mistero, emerge come un pezzo fondamentale del puzzle. Con grande sorpresa di Gianna, Manuel inizia a mostrare frammenti di ricordi legati a Dolores, la madre di Gianna. Questi flash di memoria nella mente di Manuel potrebbero contenere informazioni vitali riguardo al destino di Ramona, gettando una nuova luce su un mistero che ha tormentato la promessa per tanto tempo. Gianna è sconvolta e confusa. Come può essere possibile che Manuel, fino a poco tempo fa considerato solo un personaggio marginale nella sua indagine, possieda ricordi così preziosi? Qual è il legame tra lui, sua madre Dolores e la misteriosa scomparsa di Ramona? Questo nuovo sviluppo getta un'ombra di ambiguità e complessità ulteriori su un quadro già intricato, mettendo Gianna di fronte a nuove domande e sfide da affrontare mentre cerca di risolvere il mistero che avvolge la promessa. La storia si infittisce, mantenendo i lettori con il fiato sospeso mentre si svelano nuovi dettagli e intrecci inaspettati. Mentre Gianna si immerge sempre più nella ricerca della verità, si rende conto che la rete di segreti e menzogne è molto più intricata e profonda di quanto avesse mai immaginato. Ogni risposta che trova conduce a nuove domande, e il cammino verso la verità sembra diventare sempre più tortuoso. Tuttavia, una cosa è certa, Gianna non si fermerà affinché non avrà svelato ogni angolo oscuro di questo mistero. La sua determinazione incrollabile potrebbe essere la chiave per risolvere l'enigma della scomparsa di Ramona. Questo capitolo promette di tenere i fans sulle spine, mentre i destini dei personaggi si intrecciano in un groviglio di passioni, inganni e sospetti. La storia ha la promessa continua a evolversi, portando con sé nuove rivelazioni e sfide per i suoi abitanti. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni della saga. Grazie, a presto!